ben trovati ci siamo lasciati la volta scorsa con un esercizio apparentemente facile ma potrebbe essere stato anche abbastanza complesso ovvero quello di andare ad esplorare in completa autonomia blender se siete stati bravi avete fatto qualche pasticcio era quello che volevo nel senso è importante imparare a esplorare non abbiate paura adesso vedremo come resettare tutto da capo come se blender fosse appena uscito dalla scatola facciamo clic in un punto qualsiasi del monitor per far scomparire la splash screen e se vogliamo far ricomparire in qualsiasi momento possiamo fare clic sull'icona in alto a sinistra e selezionare splash screen molto facile bene vogliamo ripristinare blender esattamente come quando lo abbiamo installato con tutte le impostazioni di default e abbiamo provato sperimentato spostato cliccato applicato delle opzioni che adesso non ci ricordiamo più non sappiamo cosa volevano dire vogliamo la serenità di poter seguire questo corso con la massima corrispondenza ecco che sarà sufficiente andare nel menu file default e poi selezionare load factory settings blender ci chiede siamo sicuri vuoi ricaricare le impostazioni di fabbrica si è quello che vogliamo così facendo abbiamo riattivato tutte le impostazioni che c'erano di default quindi voi vi dovreste trovare una schermata esattamente come la mia potrebbe esserci qualche piccola variazione perché in futuro usciranno nuove versioni di blender quindi ci potrebbero essere delle piccole differenze grafiche o piccole differenze di icone però come già detto non vi preoccupate perché stiamo parlando delle basi stiamo parlando di imparare a guidare un'automobile e quindi sempre un volante ci sarà sempre il cambio o al massimo il cambio automatico ma stiamo sempre parlando delle basi nella lezione di oggi ci concentreremo nello studio dell'interfaccia di blender intanto lasciatemi dire una cosa che cosa vuol dire interfaccia quando studiamo un nuovo argomento che sia blender che sia chimica che sia matematica che sia filosofia una cosa che è molto importante per capire bene di cosa stiamo parlando è attenzione fermiamoci ad ogni parola conosciamo il significato di quello che stiamo ascoltando che cosa vuol dire interfaccia bene interfaccia di blender è il modo lo strumento che a blender per comunicare con noi così come è lo strumento che noi utilizzeremo per comunicare con blender detto in maniera molto povera è ciò che vediamo a video anche se gli strumenti che noi utilizzeremo per comunicare a blender quello che vogliamo fare saranno anche altri ad esempio il mouse la tastiera la tavoletta grafica se lo vogliamo usare e tanto altro ancora quello che vedremo oggi è come è suddivisa l'interfaccia e anche come questa può essere personalizzata a nostro completo piacimento quella che vedete in questo momento è uno schema di finestre che è l'interfaccia di default che vedrete ogni volta che aprirete blender per fare un lavoro fatemi riaprire la splash screen per mostrarvi cosa succede quando invece andiamo a creare un nuovo file non general quello di default ma per esempio 2d animation ecco che quasi non sembra nemmeno di essere dentro blender abbiamo un'interfaccia completamente diversa cosa è successo è ancora blender sì è ancora blender facciamo ancora un'altra prova riapriamo la splash screen e apriamo ad esempio un nuovo file per lo scalping ecco che ci si presenta un'interfaccia ancora diversa però si tratta sempre di blender abbiamo degli elementi che cambiano che si trasformano per poterci consentire di lavorare meglio in un determinato ambito ma si tratta sempre dell'interfaccia di blender sempre di quel sistema che blender usa per comunicare con noi torniamo al file di default con l'interfaccia di base quella che impareremo ad utilizzare per andare ad analizzarla insieme intanto ci sono due elementi che rimangono sempre fissi questi sono la barra superiore e la barra inferiore queste due striscioline nere o quasi contengono degli elementi che non cambiano in base alle finestre che andremo a utilizzare all'interno di blender tra questi due elementi superiore e inferiore abbiamo una serie di finestre questa è la finestra principale su cui lavoreremo la maggior parte del tempo però vediamo che abbiamo anche una finestra in questa posizione una finestra in quest'altra posizione e qua in fondo una finestra stretta e larga che contiene la timeline la linea del tempo in realtà ogni finestra può contenere diversi tipi di editor quindi che cos'è una finestra la finestra è una cornice che racchiude all'interno una parte dell'interfaccia di blender in particolare racchiude un editor in blender ci sono tanti tipi di editor e noi possiamo scegliere quale editor visualizzare in qualsiasi finestra questo grazie a questo menu che troviamo in alto a sinistra che contiene l'elenco di tutti i tipi di editor che sono presenti in blender se ci fate caso questo pulsantino lo troviamo anche qui all'interno di quella che adesso è la timeline lo troviamo anche qui all'interno di quella che è l'outliner troviamo qui all'interno della finestra che racchiude le proprietà del nostro lavoro quindi quello che possiamo fare in qualsiasi momento è andare a cambiare il contenuto di questa finestra anche se abbiamo a disposizione l'elenco di tutti gli editor li vedremo mano a mano che faremo il corso base alcuni forse li vedremo in corsi più specifici un esercizio che però voglio che facciate già adesso in questo momento è di cambiare l'editor contenuto nelle diverse finestre dell'interfaccia quindi per esempio anziché la 3d viewport mettiamo la timeline qui anziché l'outliner selezioniamo l'uv editor e qui in basso per esempio ma fate naturalmente la scelta che volete metto il movie clip editor e qui sulla destra mettiamo il compositor bene vedete che abbiamo trasformato l'interfaccia in maniera completamente diversa però abbiamo semplicemente cambiato il contenuto delle finestre abbiamo scelto quale editor far vedere in ogni singola finestra se avete seguito anche voi questo piccolo esercizio adesso esercitiamoci a rimettere tutto a posto come prima qui c'è la 3d viewport qui in basso abbiamo la timeline qui in alto abbiamo la outliner mentre qua abbiamo l'editor delle properties le proprietà bene abbiamo visto come cambiare gli editor all'interno delle finestre ma vediamo anche come modificare la forma delle nostre finestre se spostiamo il mouse tra una finestra e l'altra vediamo che il cursore cambia di forma vengono queste due freccettine che ci indicano che possiamo spostare il bordo della finestra quindi se clicchiamo col tasto sinistro del mouse e trasciniamo a destra sinistra possiamo modificare la forma delle finestre stessa cosa quando ci mettiamo nella linea orizzontale che separa la finestra superiore da una finestra inferiore possiamo cliccare e trascinare in alto o in basso fate qualche prova liberamente e poi rimettiamoci più o meno come la posizione di partenza abbiamo la possibilità anche di separare una finestra in più finestre ad esempio se ci mettiamo qua in alto sul bordo superiore della finestra che racchiude la viewport 3d vediamo che il cursore assume questa doppia freccina in alto in basso però non possiamo trascinarla perché abbiamo detto che la barra superiore non può essere modificata rimane di ferma immobile se però anziché trascinare col tasto sinistro del mouse clicchiamo con il tasto destro viene fuori un menu chiamato area option e ci consente di eseguire uno split verticale oppure orizzontale in questo caso farò una suddivisione verticale blender mi chiede bene dove vuoi tagliare la finestra mettetelo dove volete perché tanto poi lo possiamo spostare quando vogliamo ed ecco che abbiamo due finestre distinte che contengono lo stesso editor qual è il motivo per cui vorrei poter avere due volte lo stesso editor lo vedremo più avanti però per farvi un esempio molto pratico a sinistra posso voler vedere il cubo da questo punto di vista a destra invece potrei volerlo vedere da un altro punto di vista l'editor è lo stesso però ho la possibilità di utilizzare due punti di vista differenti e non è poco fate qualche esperimento provate a fare ulteriori suddivisioni e contestualmente se volete provate anche a cambiare l'editor nelle finestre adesso però vogliamo tornare ad avere la forma precedente abbiamo suddiviso un po troppe volte bene come facciamo a fondere insieme una finestra con l'altra possiamo mettere il mouse qui all'incrocio tra le finestre vedete che diventa una crocetta quindi possiamo cliccare col tasto sinistro e trascinare in alto o in basso per esempio adesso tiro la freccia verso il basso e cosa dico blender facendo così gli dico guarda fondimi queste due finestre insieme e delle due fa in modo che l'editor che c'è sopra in alto prevalga su quello che sta sotto quindi diventerà tutto 3d viewport un altro modo invece per unire le finestre è fare clic col tasto destro del mouse sulla linea di confine e quindi selezionare join areas ovvero unisci le aree stessa interfaccia viene fuori questa freccina che ci chiede che cosa vuoi che prevalga l'editor che sta a destra l'editor che sta a sinistra scegliamo quello che preferiamo e clicchiamo per confermare col tasto sinistro del mouse capiamo molto bene che l'interfaccia di blender è molto personalizzabile e possiamo avere infinite combinazioni di editor con delle finestre un po più grandi un po più strette a seconda delle nostre esigenze quindi i programmatori di blender cosa hanno pensato hanno detto facciamo in modo di poter salvare queste configurazioni di finestre bene una configurazione di finestre con i suoi relativi editor si chiama layout e esistono dei layout predefiniti che possiamo richiamare con un semplice click del mouse qua in alto vediamo che in questo momento è selezionata la voce layout che è quella di default ma abbiamo l'uvi editing abbiamo shorts modeling texture paint shading e così via abbiamo la possibilità anche di creare un nostro nuovo layout per esempio partiamo dal layout di default andiamo a suddividere ad esempio in due parti la finestra che contiene la 3d viewport quindi andiamo a fare clic sul pulsante più selezioniamo duplicate corrent cioè duplica il layout attuale che in questo momento il layout vediamo che viene fuori il layout punto 001 quindi facciamo doppio clic lo rinominiamo come vogliamo ad esempio io lo chiamerò francesco e quindi io ho creato il mio layout personalizzato se adesso andiamo in layout troviamo la stessa identica configurazione perché ogni volta che andiamo a modificare un layout questo rimane salvato quindi se adesso torniamo in layout e torniamo ad unire queste due aree avremo il layout di partenza e il nostro layout personalizzato fate qualche prova liberamente non abbiate paura perché in qualsiasi momento sarà sufficiente richiamare dal menu file la voce new general blender ci chiede se vogliamo salvare noi diciamo di no don't save e vediamo che torna tutto alla normalità quindi è sparito anche il mio layout personalizzato è tornato tutto come da default allora voi direte ma come cosa è servito salvare un layout mio personalizzato bene questo serve perché quando voi salverete il vostro lavoro il layout rimarrà all'interno di quel file oltre agli oggetti le scene le luci materiali che avrete creato verrà salvato anche il layout chi andrà ad aprire il vostro file che siate voi che sia un'altra persona a cui avete passato questo file si ritroverà il layout che avrete salvato all'interno del file mettiamo invece che voi vogliate fare in modo che tutte le volte che aprite un nuovo file di blender sia presente il vostro layout personalizzato facciamo questa prova fatemi insieme a me fate clic su più duplicate current quindi abbiamo layout punto 0 0 1 torno a chiamarlo francesco poi lo modifico qui ci metto per esempio l'uvi editor bene voglio fare in modo che tutte le volte che parto con un nuovo file questo layout sia presente per fare ciò possiamo andare nel menu file default save startup file blender ci chiede conferma sei sicuro vuoi salvarlo come startup file si diciamo di sì niente paura bene l'abbiamo salvato come file di default quindi se adesso torniamo nel menu file selezioniamo new general facciamo clic su don't save ecco che è comparso nuovamente il nostro layout attuale possiamo fare delle modifiche adesso per esempio cancello il cubo inserisco un altro oggetto una sfera per esempio crea un nuovo file new general non salvo questo perché non mi interessa ed ecco che torno ad avere l'interfaccia che avevo salvato per default bene naturalmente si può tornare indietro anche da questo come lo abbiamo visto all'inizio di questa lezione semplicissimo andiamo su file default load factory settings facendo così resettiamo tutto e torniamo dall'inizio bene per questa lezione tutto ma vi lascio con un esercizio da compiere mi raccomando fatelo sull'interfaccia dovrete creare un vostro layout con il vostro nome suddividere la finestra che contiene la 3d viewport in quattro parti e in ognuna di esse mettere quattro editor differenti così come vedete in questa schermata una volta fatto questo dovrete salvare il file chiamandolo lezione 2 come si fa salvare come si farebbe in qualsiasi altro software andiamo nel menu file save quindi selezioniamo il posto dove vogliamo salvare io ad esempio selezionerò desktop e quindi qua in basso troviamo la scritta un title punto blend chiamiamolo lezione 2 e quindi facciamo clic su save blender file bene io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto